Salve carissimi amici, tutto B, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo del undicesimo volume della collana Drago Nero, le mitiche avventure, il primo della seconda stagione con le storie inedite, cosa che ci viene riportata in questo bollino qua su in alto e che vedremo anche in realtà nel prossimo numero. La copertina è d'opera di Riccardo Crosa, i colori sono di Paolo Francesciutto che si sta occupando un po' di tutti i colori e di tutte le testate dragoneriane. Vedremo nel corso di questo video che cosa ne penso di questo volume nello specifico che contiene tre storie inedite, perché di fatto Drago Nero, le mitiche avventure o Drago Nero Adventure, se vogliamo prendere la vecchia nomenclatura della serie spillata, erano volumi che avevano per lo più tre storie al suo interno di lunghezza variabile. In questo caso specifico vi segnalo che le storie finiscono qua, pagina 88-89, e c'è un editorellino finale. Dopo la sigla però vi racconto meglio le tre storie contenute all'interno del volume, che cosa ne penso del volume in generale che vi ricordo il prezzo di copertina di 5,40€. Sigla! Il volume si apre con il Dal Diario di Drago Nero, un breve redazionale introduttivo che ci informa che delle tre storie contenute all'interno del volume, la prima più lunga è quella più in continuity, quella più legata alla trama principale, a quella del burattinaio. Allora, io posso capire che sì, se uno pensa alla trama principale delle mitiche avventure, la trama principale è quella di andare alla ricerca di alcuni elementi per fermare il burattinaio, e ci può stare. Ma non dirmelo in un volume in cui il burattinaio non compare neanche, non dirmelo! Sì, spoiler, il burattinaio non c'entra niente all'interno di questo volume. La prima storia, la geniale, Mirva, ai testi troviamo Luca Enoch, ai disegni abbiamo Francesco Di Polito, ai colori Alessandra Beccaglini, al lettering Antonio Esposito, vedrete alcune immagini qui alla mia sinistra, vede come protagonista principale ovviamente la giovane Mirva, sorella di Ian, alle prese con le sue invenzioni, con quello che crea, con i suoi artefatti in una qualche maniera, e al fatto che stiano per giungere una serie di tecnocrati per valutarla, per valutare un po' quello che sa fare la nostra giovane protagonista. e vedremo da lì una serie di rocambolesche invenzioni non proprio ottimali e che non riescono proprio a essere al 100% quadrate come dovrebbero. L'avventura in realtà è la più lunga del volume, occupa da solo una quarantina di pagine, è abbastanza carina anche sulla ricerca dell'autoaffermazione, in questo caso, della nostra protagonista, che vuole dimostrare di essere in grado di farcela a tutti i costi, mettendosi in mostra, mettendosi alla prova costantemente. Una delle cose che ho trovato un pochettino strane, conoscendo anche il personaggio di Mirva, o meglio, quello che sarebbe diventato, quello che diventerà nella serie regolare, cioè che è già diventata nella serie regolare, per appunto delle storie di Dragonero, è che sapendo che Mirva è una ragazza a cui piacciono le ragazze, vedere tutti questi riferimenti al fatto che non troverà mai marito, per come si atteggia, l'ho trovato un po' strano, cioè un po' sessista forse, un po' niente mi ha fatto pensare, perché questa cosa qui, questa battuta che viene posta al personaggio di Mirva, non avviene solo all'interno della storia della generale Mirva, ma avviene anche nell'Apprendista Stregone, la seconda storia del volume, ad opera di Stefano Vietti, con i disegni di Antonella Platano, i colori di Valentina Bianconi e lettering sempre di Antonio Esposito, dove i nostri si ritrovano a un certo punto all'interno di una torre infestata e dovranno avere a che fare con un Apprendista Stregone, il cui compito è proprio quello di disinfestare la torre. Il giovane mago si chiama Heimar e non mi suona tra i nomi principali di Dragonero, o per quanto potrei sbagliarmi, io con i nomi sono abbastanza un disastro in realtà, in generale, quindi se fosse un personaggio già noto, già visto nella serie, e fosse comparso in realtà per un capitolo un pochettino più autoconclusivo, potrei essermelo tranquillamente dimenticato. E niente, è una breve avventura in questa torre, dove i nostri dovranno cercare di capire che cos'è che abbia risvegliato questi fantasmi, questi spettri da questa torre, e dovranno di fatto scacciarli via, definitivamente. L'ultima storia del volume è Missione di Soccorso, Stefano Vietti ai testi, Antonella Platano ai disegni, i colori in questo caso sono di Paolo Francescutto, il lettering sempre di Antonio Esposito, e qui i nostri si infilano in una rocambolesca avventura, molto d'azione, dove riusciranno a finire nei guai. Non c'è in realtà troppo da dire, è proprio una breve storia da neanche una ventina di pagine, che però riesce a fare il suo, riesce a intrattenere, riesce ad essere molto dinamica, ma che a livello di storia non ha poi troppo da raccontare, da raccontarsi, perché vuole essere una breve avventura, una breve scazzottata, in una missione dove i nostri dovranno affrontare un insieme di nemici. Comunque è una storia tutto sommato riuscita. In appendice al volume c'è un lungo editoriale di tre pagine, se non ricordo male, tre o quattro pagine, dal titolo Un'animazione fantastica. Al netto del fatto che non mi puoi intitolare un editoriale Un'animazione fantastica, e poi cercare di abbinarmi questa cosa mentalmente alla serie animata di Dragonero, perché visivamente mi fa fare parecchio fatica, però ok, posso capire, l'editoriale in realtà si concentra su buona parte dei film d'animazione o delle serie di animazioni che hanno a che fare col mondo fantastico. La cosa mi è piaciuta, perché c'è molta Disney fondamentalmente, tanta 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 Disney, ma c'è anche modo di spaziare in altro, quindi è un editoriale piuttosto lungo, pieno di riferimenti, parecchio corposo, e che in realtà non capisco a chi si è indirezzato. Perché? Perché dico questo? Perché è un pubblico molto giovane, mi immagino che magari queste cose non le sa, e gli può anche andare bene, ma in realtà è abbastanza dettagliato, non così tanto da accontentare magari un fan dal palato un pochettino più fine, però io mi ci sono trovato relativamente bene. Ora, io non dico che ne mastico di animazione, ma della storia Disney più o meno qualcosina so, perché ho letto, perché mi sono informato, perché è un mondo che mi piace, e quindi da appassionato qualcosina so, non tutto, ma qualcosina so. E l'ho trovato in realtà piuttosto ricco, quindi sotto questo punto di vista, per un neofita o uno che non ne sa, ci troverà sicuramente tante informazioni valide, per un lettore che magari ne sa qualcosina di più, sarà un po' una lettura more of the same, però tutto sommato più dettagliato di tanti altri editoriali che ho letto in passato, ma forse un po' troppo per un lettore giovane, quindi non ho capito bene a chi si rivolgesse l'editoriale. Se lettori un pochettino più datati, un pochettino più agé, rispetto a quello che dovrebbe essere il target di riferimento di Dragonair o le mitiche avventure, ci può stare anche per dargli qualcosina in più. al lettore adulto, ma anche al lettore giovane, cioè se uno gli interessa la materia, è comunque piuttosto riuscito ed interessante. Che cosa ne penso del volume in senso stretto? Il volume segue la falsa riga dei volumi antecedenti, forse la parte a fumetti in questo caso è stata più abbondante, abbiamo 80 pagine sulle 96, interamente dedicate alle storie a fumetti. C'è sì una pagina di frontespizio tra una storia e l'altra, però, insomma, una pagina di frontespizio, due pagine di frontespizio fondamentalmente, con un po' di note tecniche, quindi riusciamo anche ad abbinare chi siano gli autori alla determinata singola storia, cosa che nella ristampa che c'è appena stata fondamentalmente non c'era poi particolarmente modo di capirlo. Quindi è una cosa che ho particolarmente apprezzato sotto questo punto di vista, perché ti dà subito le informazioni dirette. C'è molta più storia a fumetti, la storia a fumetti principale risulta più o meno, secondo me, lunga o uguale, non ho fatto un check delle pagine, ma mi sembra più o meno lunga o uguale. In questo caso abbiamo un disegnatore Disney, Francesco Di Polito, che finalmente lo vedo all'opera su una materia non Disney fondamentalmente, sono piuttosto contento, mi è sembrata una vicenda piuttosto riuscita, è chiaro che non ha fatto una storia realistica, visto che in ogni caso, Drago Nero, le mitiche avventure, vuole essere indirettato a un target più giovane, quindi qualcosa di un filino più caricaturale. C'è, questo in dubbio, ma sicuramente si è mosso su passi diversi da quelli della tradizione disneyana e l'ho trovato comunque molto coerente col resto delle avventure che abbiamo letto nel corso della serie. La sua prima storia, che era quella che poi dà anche il titolo al volume, che doveva essere quella principale, mi è sembrata filler, nel senso che non è che porti avanti apparentemente chissà quale trama delle trame principali del burattinaio, ma indubbiamente è quello che va a caratterizzare maggiormente il personaggio di Mirva, che finora, sulle mitiche avventure, non era emersa più di tanto e che qui finalmente ha un po' di spazio, un po' di luce propria, come se gli si volesse dare una sottotrama principale. Vedremo se questo porterà a qualcos'altro o meno. Le altre due storie sono di fatto dei riempitivi. Anche loro le considerano le storie meno importanti del volume, quindi ne posso solo chiedere conferma, ma in ogni caso piuttosto riuscite. È chiaro che non si tratta dei trame elaborate chissà quanto rispetto alle storie presenti all'interno delle serie regolari di Dragonero Mondo Oscuro, né che hanno volontà di trattare tematiche particolarmente pesanti o sviluppate, ma come divertisment fondamentalmente da leggere tra una storia principale e l'altra, ci sta a leggere anche qualcosina di più leggero, sempre ambientato in questo mondo, e vedere come i nostri personaggi siano arrivati ad essere quello che sono. Questa seconda stagione non si prefissa di essere uno starting point per nuovi lettori. Cioè, non c'è nulla di male se uno prendesse questo primo numero non avendo letto gli altri dieci non si perderebbe particolarmente tanto, tanto più che non viene portata avanti una trama principale all'interno di questo primo volume, quindi tutto sommato uno può leggere più o meno capire quello che succede. Chiaro che se non conosce niente dell'universo di Dragonero probabilmente si troverà un attimo spaisato in generale, ma questo prendendo qualsiasi numero della serie fondamentalmente sarebbe così. E niente, questo è un po' quanto avevo da dire per voi per oggi. Il mio invito è di venire nello spazio commenti nel caso in cui abbiate letto questo volume. Ditemi se vi è piaciuto e se non vi è piaciuto che cosa vi sia piaciuto o non vi sia piaciuto. Se non avete letto questo volume ditemi se lo recupererete o meno e continuiamo la discussione assieme come sempre qui sotto nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla Soffita di Camera Mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video-opinione del canale. Ciao!